Musica Cari amici Benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Aiuto! Ok? Benvenuti su Diversity 2 In seguito di quella fantastica mappa Che era Diversity Quella custom map multigenere Complete the monument che abbiamo fatto in passato Se non l'avete vista vi consigliamo Assolutamente andare a vedere perché è una mappa Fantastica Non possiamo dire nel suo genere perché ha tutti i generi Del mondo Non serve aver visto quella per potersi godere di Diversity 2 Perché sono slegate completamente Ma ne vale veramente la pena E sono emozionato ad iniziare Vai smettere di parlare Ok inizia Così? Così iniziamo Siamo nell'inizio Siamo nell'inizio dell'altra Qui c'è la porta Che ci facciamo qui dentro Guardate di E' bloccato Qui sono tutte le zone No! Che bello Ha tenuto la stessa lobby dell'altra volta Sì ti ricordi Queste qui le abbiamo comprate Cosa? Cos'è? Cosa sta dicendo? Non usava la lana prima Ora c'è un dead bush Cosa sono stai scritte? Ancora? Cosa sono stai scritte? E' linguaggio di aerobrine? Si è aperto un buco Nell'escape Scappiamo da questa Diversity per entrare in Diversity 2 Benvenuti a tutti Anche a noi C'è qualcosa di bellissimo Allora anche in seguito architettonico Non soltanto spirituale Non vediamo l'ora di giocare sta mappa È qualcosa Deve essere qualcosa di fantastico Certo Come diventare ricchi velocemente E beh Ah no non c'entra niente È un titolo per attivare attenzione Diversity 2 è una mappa multicella Esattamente come abbiamo spiegato voi Eh attenzione però non possiamo uscire da una delle zone Perché altrimenti ci distruggerà interamente gli inventari No Qui ci sono vabbè le regole Non possiamo fare niente di danni Tutti i requisiti Le raccomandazioni Quando si può giocare moltiplici Allora Grazie Per aver giocato A diversi due Aspetta Famici giocare Grazie a chi l'ha creata questa mappa Invece Grazie mille E complimenti a Qmagnet E il suo team Per aver creato questa mappa Sai le scale così ti butto di sotto Cosa? Sto salendo o sto scendendo? Stai salendo Mi sembra di stare scendendo E' bellissimo Ma mi sembra di Potreste veramente dire che sto Che non sto scendendo No ma è bellissimo E' stupendo Ok Sono anche delle illusioni ottiche Per me ti sei fumata troppo a carta igienica Ma Dove siamo? C'è di nuovo un chest E un tasto Olè La Lara La Lara Ha cambiato lì L'altra volta era dell'introduzione Questa volta è qui Analyzer Item Please stand back Che succede? Come vi dargli il libro Si è alzata questa Quanta No E' caduta la lana Che bello Che bello l'effetto Ha messo la fisica e la lana Così le tue pecore cadranno nel vuoto Non è vuoto Schiacciate dall'attarito della terra Ma cosa stai dicendo? Ok E sappiamo come Questo Guarda che Che cosa? No che bello come ha creato le scale È quel posto che avevamo visto prima E ora ci sono altri 10 blocchi di lana da prendere E che bello Sono veramente felicissimo Cosa stai facendo? Niente c'è un pulsante che non funziona C'è un pulsante che non funziona Dobbiamo scegliere la nostra destinazione Selezionando uno dei blocchi di lana Abbiamo avventura Arena Trivia Parkour Escape Labyrinth Dropper Survival Un'altra casa No La mia casa tornerà veramente No E poi Puzzle E boss battle Allora ovviamente per chi va di iniziare da parkour Non ci penso neanche Che ne dici? No Che ne dici? No lo so perché sei rosa il parkour Ma non lo voglio Va bene allora dato che siamo noi Non possiamo che iniziare Diversity 2 Con Dropper E invece no Facciamo trivia così Perché dobbiamo sempre fare dropper Ha cambiato colore sto coso Ha cambiato colore Ha cambiato colore Lo teniamo per dopo Io so con trivia Si Ma non serve a niente sto pulsante Non ci sono pulsanti in giro Non serve a niente Scusa abbiamo schiacciato Quello di trivia Perché non ci ha trasportato da nessuna parte Non lo so ma sto pulsante serve Pigia Pigialo Pigialo Tutti i giocatori Stai ferma Accidente No vai via No smettila Tutti devono stare qui dentro Ma io devo stare lì dentro Anch'io Stai ferma Va bene va bene Persona noiosa Ok ci siamo Ci siamo Il trivia Si È un trivia No Non ho capito Siamo sicuri Non ho capito E domani No ti odio Aspetta iniziamo Welcome to the trivia branch Ogni domanda S'ha presentata Da questo bottone In ogni stanza Ok scegli Passa attraverso la porta Della Della risposta Che vi tieni corretta E via Abbiamo capito Tu avevi capito Non lo so Spero di sì Ok andiamo avanti Minecraft è un gioco sandbox Che consiste in cosa Allora Assassinare Templar Mi ricorda qualcos'altro Rubare macchina e conquistare la città A volte Minare e craftare Di solito Oppure andare a svolazzare in giro Per Arkansy Batman Batman È il gioco di Batman No 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 Ma se Ok no Mining e crafty Non sbagliate Ok Stavo un po' preoccupato Se non avessimo saputo quella lì E beh Ok Qual è stato Il primo titolo Con quale Hai stato conosciuto Cioè Qual è stato il primo nome di Minecraft Minecraft Prima di essere chiamato Minecraft Aveva un altro nome E io lo so Ed è Cave Game Va bene Si chiama Cave Game Nel maggio 2009 Marcus Pesso Conosciuto anche come Notch Ha creato un video su YouTube Che si chiama Cave Game Tech Test E io l'ho visto Per questo non lo ricordavo Non lo sapevo Ok Il primo Il primo Gioco creato Allora All'inizio La creative La prima realtà di gioco Era la creative Ok Quale di questi oggetti Non è disponibile in creative Aspetta Fammi vedere Il Firework rocket E non capisco perché Per qualche ragione Non c'è il fuoco d'artificio Non capisco E sarebbe comodo Vabbè Ce ne sono tanti possibili Ma perché no Un altro tipo di gioco È survival Dove Gli oggetti Devono essere ottenuti Cercandoli nel mondo E craftandoli Quale di questi oggetti Non si gira automaticamente Nel mondo E deve essere per forza Craftato Allora Il flower pot L'iron door Lo snow block O il pistone Allora Aspetta un settembre Perché ci sono Sta roba Normalmente Ehm Ehm Quale di questi Non è O è Cioè Quale di questi Deve essere Ma perché Aspetta I pistoni Sì Lei mi hai visto Craftare dei pistoni In natura Non ho mai visto Aspetta Quelli dentro Le cose della giungla Della giungla No Qui ci sono le trappole Ma hanno anche i pistoni Spoda Ah dici E i flower pot Ma i testificate Non hanno flower pot Non mi sembra Porta di ferro Ci sta che ci sono Le sotterranei E lo snow block Ci saranno Degli snow block Sì Proviamo flower pot Vai No Sbagliato Flower pot Può si genera È vero Ma no Quindi quando sbagliamo Finiamo a A vedere No che bello Ok Ok Trova il bottone O muori Come il bottone O muori Ma perché Come si fa a morire Allora Eccolo qua il bottone L'ho trovato Bene Bene Ok Ci siamo Non abbiamo sbagliato Quindi Capiamoci Forse lo snow block Allora Lo snow block ci sarà Ma non nevica così tanto Magari Ma se no Di cosa sono fatto Ma no Sbagliato I blocchi di snow Di neve Sono naturalmente Spawnati Nelle ice plain spikes Bion Ci vado sulle pupazze di neve Con la neve Non le so niente Ok Bisogna trovare il bottone O dobbiamo morire Moriremo Mi sa Moriremo assiderati No Sì Non c'è il fred di minecraft Il bottone Eccolo Bottone Ora Almeno l'ultima La facciamo giusta Secondo me Secondo me Le iron door Ci sono Da qualche parte Tipo nelle fortezze Quindi il pistone Per quanto Gli sticky pistos Ce l'avevi ragione Avevo ragione Gli sticky Invece quelli normali No Vanno craftati Per farsa Che storia Minecraft Minecraft consiste In vari biomi O regioni Del mondo Che hanno Una varia struttura E vegetazione Quale di queste Non è un bioma Ok Cold beach Deep Rocha Hell O mountains Hell Si chiama Il nether Si chiama hell Potrebbe darsi Sai Non lo so La cold beach Che sarà mai La cold beach Spiaggia fredda Sbagliato Esiste Esiste la spiaggia fredda Non ci posso credere Ok andiamoci Au Au Non esco Aiuto Ci deve essere un bottone No Dove essere No no scherzato Se un po' muoio Muoio Anch'io No non voglio Ecco il bottone Bottone L'ho trovato Ok Ok non è cold mountain C'è che ci punisce cattivamente Ma è cattivo se sbaglia Cioè ogni volta che uno sbaglia Non è che ti dice Solo hai sbagliato C'è proprio La cattiveria dietro Non è molto simpatica Ma si chiama davvero Mountains o extreme hill Ah sono l'extremills È vero Bravista Non ci avevo pensato Lì per lì L'1.7 Ha introdotto Diversi nuovi Fiori Quale di Che alcuni di questi Sono alti Ben due blocchi Quale di questi È il più alto Allora L'oxy Daisy No è piccino È la peonia La Mi sembra la peonia Alta 2 Dai tutto tuo Tutto tuo Sei tu che stai Sunflower Sunflower Lilac Rose Bush E un perno Vedi che ho fatto bene A piantare le peonia Poi da casa nostra Uno Un modo per fare danni In mob È usare la gravità Quale di questi mob Non soffre Il fatto di cadere Non soffre Ciao Ciao Salutami Il danno Da caduta Che è Mi è andato di traverso Un flower pot Quale di questi Non soffre La cosa da caduta Allora Io non ho mai provato A buttare Nessuno di questi Nessuno Per me il lupo Si fa male Per me il silverfish È forse Il silverfish Proviamo Ok Ho sbagliato Silverfish Si fa male Cosa Cos'è Mi state provendo Silverfish in testa No Morite Soffrite Non morite Le streghe Le streghe Per quanto Sono resistente Ok Ah che bello E allora che cosa Gli iron golem Ma quelli cadranno Gli iron golem Gli osso Le mob cube Non si fanno male E beh i gatti cadono Sempre in piedi Effettivamente Ok Come molti mob I giocatori Possono morire Se cadono Da un'altezza Abbastanza alta Qual è la massima Altezza Da cui un giocatore Può cadere Senza morire 18 20 22 24 blocchi Senza armature Senza armature Pozioni Ma non credo Ci fa provare Se sbagliamo Eh sì Facciamo Non credo Che possa supervivere Tanto 18 Pensi così E ok Proviamo la tua teoria Se hai 18 blocchi Di altezza Proviamo Eh vedo che c'è un'alte strada Ok Salve Siamo ancora vivi Sbagliato Ok A questo punto Visto il test Direi che è 22 Esatto 22 22 ti lascia solo con mezzo cuore Eh che carino Ma che cattiveria Ma è troppo bello sbagliare Io voglio sbagliare Tanto non c'è problema amore Abbiamo già sbagliato Parecchie volte Voglio Cioè io adesso voglio tornare indietro E metterli a sbagliare No Così aah Ma perché Aspetta Eh no Poi tanto ci ritorna Ci fa ritornare al posto giusto Inizio a pensare Che dovremmo sbagliare Il più spesso Diteci se volete Che nella prossima puntata Torniamo indietro E sbagliamo Solo per scoprire Che cosa si è inventato Quando uno sbaglia La pioggia di Silverfish Era stupenda Aspetta leggiamo magari la domanda Anche quella di John Marte però In un Non veramente In un gioco di Minecraft Quale di questi nemici Farà Più danno Al giocatore Per ogni colpo Allora La Blaze Handman Wither O zombie pigman Wither intende lo skeleton O il boss Il boss Sarà Wither skeleton E allora sarà Wither Wither No Non ci parla Adesso Wither Per scoprirla Grazie Allora Per quanto sia molto forte Non fa Più danno in assoluto Che sia il pigman Il pig Il maledettissimo pigman Il pigman Il malefico pigman Prova Il pigman E' visto E' pigman Ecco perchè E' a sette e mezzo Il pigman fa più di sette Fa più di sette danni Capito E' una cosa incredibile Più danno Wither E' come si è ammazzata tutte le volte Ecco perchè c'è così cattivi Loro Uno dei modi per ottenere alte abilità E' attraverso l'uso di un beacon Quale di queste abilità E' mostrata nella prima riga della piramide Ma chi l'ha mai avuto Ma chi se lo ricorda Mi sembra di ricordare Il coniglio me lo ricordo Allora Il coso che sanguina me lo ricordo Allora proviamo Jump boost Sbagliato No eh No è nella seconda riga Cos'è che dobbiamo fare? Il super tetagon jump Buongiorno Qui? E' stata una mia idea Questa è la mia mappa Non vostra Ho fatto tutto il lavoro No l'ho fatto io Salta Come si sta? Super jump Ah non si muore però Cos'è che dobbiamo fare? No dobbiamo scalare il mondo Non ci credo A me non ho visto queste cose Ma avevano già procurato Un drop Però al contrario Ma che cattiveria Ha visto Ah l'altro Non vedo l'ora di provarle tutte Come state vedendo Se non conoscete cosa è diversi Si è fatta male Non avreste avere resistance Ok Magari è troppo E' veramente bello L'idea che questa mappa Ha tutti i generi Quindi se magari dite A me non mi convince A me non mi non ditelo A me non mi piace il parkour Ti pizzo da te Non ti preoccupare Sono in cima Sono in cima Bravo in cima E vai Se non siete magari molto convinti Da una sfida Da un genere Non vi preoccupate Perché essendoci ben dieci generi diversi Troverete sicuramente una O si spera ben più cose Che vanno al caso vostro Quindi non vi preoccupate Se una puntata vi convince meno Continuate a seguirle Perché troverete Delle parti Che sicuramente Vi potranno piacere Quindi Dove andiamo Hai detto la zona Col sangue Quindi vogliamo strength No Vedato Perché abbiamo perduto No perché c'è un gabinetto Che perde lì Perché Ho detto strength Se è la terza No Il mio stomaco Perché Cosa dobbiamo fare Ci sono le scale Sul bordo del gabinetto Dobbiamo vomitar Dobbiamo Vabbè Lasciamo Non serve Che traduciamo Proprio Abbiamo la nausea Comunque Dobbiamo tirare lo sciacquone Non lo so Basta Sta cosa C'è qualcosa Qua dentro C'è qualcosa Sì Buttateli il pesce palla Ah meno male Sì Mi sento un po' Non mangiate Il pesce palla Che è male Ok A questo punto Lancia Tutto tuo La velocità Brava La velocità Sì Sì Ma cosa voglio provare Sbagliato La resistance Se è nel terzo Ok Dobbiamo resistere Non è Non è Non è Cosa Cosa Dobbiamo Dobbiamo resistere Alla tentazione Di farlo Esplodere Dobbiamo resistere Alla tentazione Di farlo Esplode Mi dispiace Ma no Era uno scherzo Sì Ti sei arrabbiato Ma scherzavo No 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 Scherzavo Perché l'hai fatto Scherzavo No 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 Non ho scappato Scherzavo Scherzavo No 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 Perché 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 Stavo scherzando Perché Chiun chiun scappa Vai via Tieni a lontano da me Ecco Non ci va con quelle face incantate No veramente Il mio giardinetto Hulk Aia Farà male Sì abbastanza Addio Mondo Ok Aia Mi ha fatto nove danni Cattiveria E lui è peggio Dello zombie pigman Però È peggio Ma andare a minare È un fattore chiave In Minecraft Soprattutto Per ottenere risorse Tutti Di tutti i minerali Lo smeraldo È quello più raro Da trovare Si spara solamente In un bioma E l'extrime E stavolta Noi lo sappiamo Andiamo nella giungla No perché Sbagliato Non si gira Nella Ok Ma dai che roba Ma perché non sbagliamo sempre Perché continuiamo a fare delle cose Troppo bello È impossibile Ok Qualcuno di noi l'ha preso Io l'ho preso sicuro Allora Quindi non sbagliare più Abbiamo detto È un botone salvataggio Dietro C'è un botone salvataggio Ok Prima che Che possono essere sentiti Che possono essere sentiti Attraverso un jukebox Quale di questo È il numero Del broken disco Sappiamo che L'11 Sì Per me è il 13 Sì Ma per Ah No Siamo giù a dischi No Aiuto Aiuto Cosa devo fare Andrà a prendere il disco Non ci credo Non ci credo Ma è assoluto Andrà a prendere il giardischi No Vai Mi sta absocciando Vai Mettere il giardischi Mi sto provando Mettere il giardischi Stai impaziente Non fallo mai più Non fallo mai più Aiuto Ok È veramente bellissimo Veramente bellissimo Mi piace Non lo so Non avevo mai nessuna cosa Dove se sbagli È così Cattivo L'Ava è uno dei due blocchi In Minecraft Quanti blocchi di distanza Percorrerà Quando va a fluire Nel mondo Sopra il resto Dell'universo Non ho idea Cinque Sbagliato No Leggi bene la domanda Non l'avete compresa nel prezzo Ok Sei L'M Non ci credo M Dove sono Dove La buona Quattro Ehem 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 Cosa non hai risposto ancora Treee Un altro aspetto di Minecraft È creare pozioni Quali Non ne ho idea Allora Di base L'ingrediente fondamentale Per tutto È il netherworld È lo zucchero Posso No Per la posizione No Per la posizione Dov'è il bot Posizione Swiftness Che me ne faccio La posizione Non lo so C'è un bottecone Laggiù il bottone Vai È sparito il bottone Forse bisogna bere È sparito il bottone Tornerà Eh Forse Tu Dov'è il bottone Ah c'è una Corri Corri Ma non corri Non lo so Dai È andata via Ma non funziona la Swiftness Qui È pinta Come funziona sta Swiftness Non va abbastanza veloce È una Swiftness Che non Swift abbastanza Corri Sì come avevo da lato sbagliato E beh allora Corri Corri Ma dove è Ma come Ma come gli viene in mente Come si fa Ma come si può Stai fermo Nati Parte Sì quello parte subito Allora Proviamo a fare una Swiftness Subito Magari mi resta E quindi corri Corri C'è una Swiftness o no Forse sì Forse sì Forse no Non lo so Dai No Ma perché l'hai riettivato Subito Tu però No mi si è andata via La Swiftness Ma perché Tiene anche la mia Tò Prendetele due Vai Ce l'ho Ce l'ho Adesso Ce l'ho Ma Dai Corri 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 Ma forse Forse non Forse non devo correre Vabbè comunque ce l'ho fatta Lo stesso Bravo Non preme più i tasti Sta ferma Sta ferma Non lo so Le voce io non le faccio mai Senti La netherworld è quella di base Di tutti Tutti Dell'awkward Ah cioè Vero Per fare la potenza La tic è una di quelle più avanzate Cosa 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 Devevo andare nel centro Cosa Devevo prendere tutto Questo netherworld Non ci credo Ci sono le zappe Ci sono le zappe Dovevo prendere tutto No Ci stiamo fino a dopo 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 300 Non ci posso credere Ci sono a fine del mondo 300 mila volte Dovevo prendere lì tutti Ma davvero questa è la punizione Ma no Ma com'è cattivo Ma perché Ma dice che sul No ma dice Magari è uno scherzo Dai È uno scherzo Magari se ce li buttiamo dentro Va bene uguale Tu dici Ma ci abbiamo Ma un scherzo Si può anche fare Quanto ci vuole Farli tu Dov'è Lo penso È qui È qui Ok prova Prova taglieli Avvi ragione tu Meno male Meno male Ok Va bene Me la lancio Questa Redstone Perché te la sei lanciata Redstone È per la Mundane Passion È per la pozione mondana Segui Ma cos'è sta roba Dobbiamo seguire la sagoma Dobbiamo seguire Segui puntini Sono Guarda lì Ma che suddita È Ma dai Cos'è sta ombra strana Ci sei Da volte Ah ok Ma che roba Che carino Ci sei Ok bravissima Ok Cos'è rimasto La Aspetta La led L'abbiamo tolta La glowstone Non me lo ricordo La sugar L'abbiamo tolta L'abbiamo tolta Glowstone Glowstone Ce l'abbiamo fatta Non ci posso Credere Vabbè Fantastico Allora La 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 ricetta Per creare Una freccia È un flint Sopra uno stick Sopra una Piuma Usando un singolo Oggetto di ognuno Di questi Quante frecce Produrrà E chi le crafta mai Le frecce Le prenda sempre già pronte E 4 Ah no 2 AIA Ti ha lanciato Due frecce Ti ha lanciato Le frecce Le frecce Ti ha lanciato Le frecce Grazie Che carino C'è nel braccio C'è nel braccio Un braccialetto E AIA E queste cosa Mi fanno Delle collane Non so Queste sono Orecchini Orecchini per le braccia Ok Ci sono Diversi Light resources In minecraft Quale di questi È quella Più Potente Beh Allora Non pensi Ma non è che mi aspettassi Pensavo una torcia Il sole Per esempio Una glowstone No eh Non ho idea Proviamo La glowstone La redstone No eh Cosa ti sei venuta in mente Di schiacciare Guarda cos'è Ma è la collettiva Cos'è sta roba Ma che cosa dobbiamo fare esattamente Bisogna andare Al momento giù Vai 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 No Più veloce Ma qua mi è venuta in mente Ah ecco perché è buio Perché vuole far vedere Quanta luce fa Bene Fa un pochino Ok a sto punto Proverò Con Il nether Non fa così tanta luce E allora Non facciamo Non il nether Io ho detto Il nether Proviamo questo Allora Svegliato Ancora Gear of the light Ok C'è qualche cosa migliore Ma C'è qualcosa Che illumina di più Del sole Sento qualcosa No Cos'è quel buchetto Laggiù nel muro Non si Che è l'uscita È un bug È un bug Grafico No 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 Quanti Quanti Un attimo No 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 Abbracciamosi tutti No 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 Abbraccia il creeper Dici che devo Ciao amico Buon uomo Mica tanto No non tanto Non gli faccio gli abbracci E allora Brewing stand No Perché mi sono fidato Fai una pozione Lancialo nell'op Ok Allora Facciamo una pozione No mi servono le pozioni Mi servono qua Non c'è niente Allora Pozioni Con un Netherworld Ok Va bene Allora Mettiamo le pozioni Nanè Eh ma mi sei rotto Un po' Mi sei rotto Scusate Vai giù No Mi sei rotto tu Ah Perché 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 c'è anche la cattiveria Ma stavo per fare la pozione Ci ha fregato Ma stavo per fare la pozione Perché voi lo buttate nella lava Pensavo dovessemo ucciderci Infatti dovevamo ucciderci Ma non con la lava Fufufufu Ancora Netherpro Ma non ti sopporto Io volevo dire Netherportal Da una luce di 11 Anche se non ci consiglia Di riempire La casa di Netherportal Un blocco di birch Direi che è meglio fermarsi Perché sei troppo tardi Forse sì Ma forse sì Questo quindi è l'inizio Di Diversity 2 Abbiamo iniziato con trivia Abbiamo davvero tantissime cose Da sperimentare Avventura Drop Arena Parkour L'abirinto Survival Boss Battle Non la fai la tua casetta Puzzle Perché no La volete La volete Nessuno la vuole Fateci sapere Cosa ne ha pensato In questa mappa Non vediamo l'ora di continuare Ci sono davvero tante altre cose Da sperimentare Ho visto che c'è altra roba Aiuto E non vediamo l'ora Di continuarla davvero Siamo che vi piaccia Pensa pensi che facciamo Ancora qualche giro Per sperimentare Quale altre Torture Abbiamo preparato Per chi sbagliava risposta Secondo me questo È uno dei trivia Comunque dei quiz Più belli mai creati Perché proprio quando sbagli Ti fa sperimentare L'errore Ed è stupendo Grazie a tutti Per stati con noi L'inizio di questa fantastica serie Guardate Diversity 1 Se non l'avete vista Perché è fantastica E Alla prossima Cognetta e brava Ciao